Grazie, grazie ancora una volta a Maurizio Cannone, a Monitor Immobiliare, Monitor Legale, per questo invito a partecipare nuovamente a ReItaly, che è una manifestazione importante, interessante, un appuntamento immancabile. Questa mattina il condirettore di Italia Oggi, Marino Longoni si pone sul suo giornale alcune domande in merito all'intelligenza artificiale. Si chiede chi comanderà l'intelligenza artificiale, chi governerà gli algoritmi che gestiranno l'informazione per gli abitanti del pianeta, sarà un'azienda privata o un gruppo di aziende private, un governo democratico o un oligarcha mondiale, oppure qualcuno autoimpostosi con la forza delle armi. Io non sono qui né per rispondere a queste domande, naturalmente, né per farmene di altre di così elevate e di così importanti. Cerco semplicemente, senza naturalmente alcuna competenza in materia scientifica, in materia di intelligenza artificiale in particolare, di raccontare qualcosa che stiamo vedendo come confedilizia, anche attraverso accordi che stiamo stipulando con società del settore per quanto riguarda il titolo di questo intervento, cioè la gestione dei patrimoni immobiliari. Per quanto riguarda il settore immobiliare, si pensa all'intelligenza artificiale, credo che se ne parlerà, se ne è già parlato in precedenza, se ne parlerà più tardi, se ne parla, si fa riferimento alla domotica, alla sicurezza domestica, all'ausilio nella fase dell'investimento e quindi anche della ricerca degli immobili, alla progettazione degli spazi, anche alle valutazioni immobiliari, qui direi con qualche rischio in più a mio avviso. Ma l'intelligenza artificiale sta cambiando anche molto radicalmente anche la gestione degli immobili, gestione anche amministrativa e documentale con effetti però importanti soprattutto sulla manutenzione e sulle ristrutturazioni. Grazie all'intelligenza artificiale c'è la possibilità ora limitata, molto limitata, perché bisogna anche permettersi certi strumenti, c'è la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato degli edifici, prevedendo con precisione quando e dove saranno necessari interventi manutentivi o di sicurezza. Tutto questo consente non solo di ridurre i costi legati a riparazioni impreviste, ma garantisce anche una gestione più efficiente e programmata degli immobili. Inoltre ci dicono coloro con i quali siamo in contatto, come con Fedilizia e con i quali stiamo provando con fatica a sviluppare questi aspetti, che l'analisi dei dati storici in tempo reale permette di pianificare le ristrutturazioni, quindi non solo rispondere ad esigenze immediate, ma pianificare ristrutturazioni con consapevolezza, ottimizzando gli investimenti e valorizzando, questo è un punto importante, ulteriormente gli edifici. Dal punto di vista amministrativo, anche qui ovviamente la cosa non è precipua del settore immobiliare, ma è importante anche per il settore immobiliare, perché l'intelligenza artificiale consente una gestione documentale e finanziaria degli immobili, migliorando la trasparenza, la precisione nella gestione dei contratti, nei flussi economici e anche delle tante, sempre più numerose normative da rispettare. La capacità predittiva, questo è il termine chiave secondo me dell'intelligenza artificiale, rappresenta quindi un grande vantaggio per i proprietari, vedremo fra un secondo, più per i grandi proprietari, per i grandi soggetti, perché permette appunto, dicevamo, di anticipare le necessità manutentive, di evitare emergenze, di mantenere gli immobili in buone condizioni o in perfette condizioni, se tutto viene utilizzato al meglio. Per quanto riguarda in particolare l'efficienza energetica, tema al quale si è fatto riferimento anche poco fa, tema di grande attualità, anche per gli aspetti normativi europei che ben conosciamo e dei quali abbiamo parlato in diverse occasioni anche in questa sede, i sistemi di intelligenza artificiale permettono di monitorare il consumo energetico in modo automatico e continuo e quindi anche qui di efficientare il tutto, efficientare e migliorare dal punto di vista del risparmio. Gli impianti di riscaldamento, di raffreddamento e illuminazione possono essere gestiti in base ad abitudini, in base all'analisi della situazione pregressa, così riducendo gli sprechi, ma anche migliorando, parola magica che non si può mai trascurare, la ormai mitica sostenibilità delle abitazioni riducendo i costi per i proprietari, quindi miglioramento anche dell'ambiente attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Ma poi c'è la sicurezza degli immobili sotto due profili, sicurezza quella più conosciuta grazie anche alla domotica attraverso sistemi di allarme e videosorveglianza che sono diffusi da molto tempo prima, magari che si parlasse di intelligenza artificiale che è un termine un po' più recente ma che forse si era nei fatti già sviluppato in precedenza e quindi sistemi di allarme, distinzione, capacità di distinguere eventi reali e falsi allarmi al fine di garantire la sicurezza delle persone all'interno degli immobili. Ma poi c'è anche un altro tipo di sicurezza importantissima alla quale noi come Confedilizia poi teniamo molto e lo ribadiamo ogni volta che si pone l'accento solo e soltanto sull'efficienza energetica, sul green, sulla necessità di migliorare le prestazioni energetiche ma si trascura spesse volte, troppe volte, la sicurezza sismica ma non solo sismica. Quindi qui la sfida è quella di sfruttare le esperienze maturate nel monitoraggio delle grandi infrastrutture. Qui c'è una grande esperienza, c'è anche un grande know-how dal punto di vista del monitoraggio di grandi infrastrutture, di ponti, di strade, di strutture di grande livello. La sfida è quella di trasferire, non è facile, trasferire tutto questo con riferimento sulle proprietà immobiliari al fine di utilizzare queste competenze per accrescere la sicurezza sia strutturale degli immobili sia quella degli impianti perché attraverso soluzioni gestionali innovative si può migliorare la manutenzione e la sicurezza degli impianti. Noi come Confedilizia stavo per dire una frase fatta in prima linea, non siamo in prima linea, siamo impegnati su questo tema, ripeto difficile perché crediamo che sia importante supportare i proprietari nell'adozione di tecnologie avanzate a beneficio ripeto sia degli stessi proprietari sia dell'immobile, quindi dell'oggetto di attenzione sia della collettività, fatto riferimento all'ambiente, alla sicurezza ma si può fare riferimento a tanti altri aspetti. Quindi l'obiettivo è favorire l'utilizzo di strumenti digitali e tecnici per la valorizzazione, altro termine chiave secondo me, da questo punto di vista la valorizzazione e la crescita della qualità degli immobili. Noi stipulammo, ci rendemmo diciamo protagonisti molti anni fa, credo più di vent'anni fa di una iniziativa sulla certificazione di qualità degli immobili, molto ambiziosa, forse troppo ambiziosa perché il successo non arrivò, non ci aspettavamo neanche il successo generalizzato per il tipo di proprietà che c'è in Italia, ma che era insomma un modo di avvicinarsi a questi temi da molto lontano, certificazione di qualità degli immobili con strumenti che allora erano diversi da quelli attuali ma che adesso sono molto più sofisticati. Quindi per la gestione predittiva preventiva dei crischi, la gestione dei cicli manutentivi, la gestione della sostenibilità degli interventi. È però fondamentale, mi avvio alla conclusione, che questi sistemi, che queste tecnologie siano integrate, siano accessibili a tutti e sia consentito giungerci con una qualche facilitazione perché spesso sono molto costose. C'è un problema oggettivo che è dato dalla tipologia dei soggetti proprietari. L'Italia è un paese a proprietà immobiliare prevalentemente diffusa, molto di tipo condominiale. È chiaro che i primi esperimenti che anche noi stiamo facendo attraverso convenzioni, accordi eccetera sono su proprietà di tipo concentrato, non necessariamente concentrate dal punto di vista fisico ma dal punto di vista del soggetto proprietario perché sistemi di migliore gestione attraverso l'intelligenza artificiale e comunque l'alta tecnologia possono esserci anche per proprietà diffuse sul territorio nazionale, ma ce lo diranno credo bene o ce l'hanno già detto in interventi precedenti i soggetti, la stessa Banca d'Italia, gli stessi soggetti che sono portatori di detentori di grandi proprietà anche diffuse sul territorio nazionale. E quindi il nostro impegno però deve essere quello di cercare, almeno quello nostro di confedilizia, di cercare di sviluppare tutte queste tecnologie, di far avvicinare a queste tecnologie quella che a qualcuno piace, a qualcuno no, a noi continua piacere, comunque è una caratteristica dell'Italia, quella di una proprietà immobiliare molto diffusa e una proprietà immobiliare anche di tipo condominiale, quindi qui ci sono difficoltà sul piano pratico e sul piano anche dei rapporti personali, non è inutile che stia qui a ricordare le difficoltà che si hanno in alcuni casi in ambito condominiale per la gestione anche di questioni molto più semplici di quelle di cui stiamo parlando oggi. In questo quadro, permettetemi per chiudere questo, un piccolo acceno di attualità, preoccupa un po' quello che insomma sta avvenendo da parte di questo governo con riferimento agli incentivi di Lizzi, che io continuo a chiamare incentivi e che non chiamo bonus perché da un quarto di secolo a questa parte con tutti i governi, con tutte le maggioranze, anche persino i governi tecnici, si è sviluppato un sistema di incentivi che non credo sia mai stato pensato come un sistema di favori per i proprietari, non credo perché altrimenti non avrebbe retto così a lungo. Ha avuto diverse finalità che sono state l'emersione del sommerso, la primissima, quella del 41-36-50%, insomma varia e sta variando anche da ieri sera a questa mattina, poi quelle per quindi l'emersione del sommerso nel contrasto di interessi, poi quelle relative all'efficientamento energetico ben prima del super bonus, quelle relative alla sicurezza sismica anch'esse ben prima del super bonus. E però preoccupa il fatto, adesso vedremo il testo della legge di bilancio e del disegno di legge di bilancio e del decreto fiscale, perché i testi bisogna leggerli e non bisogna accontentarsi delle anticipazioni giornalistiche, magari qualcosa di più ce lo dirà fra mezz'ora esatta il Ministro dell'Economia che andrà in conferenza stampa a spiegare la manovra, ma anche lì non ci dobbiamo accontentare perché bisogna leggere i testi, però preoccupa il fatto che ci sia un approccio che sarà certamente motivato da ragioni di bilancio, non si può discutere, ma credo sia anche molto influenzato dall'esperienza del super bonus che ha avuto i mille difetti che tutti conosciamo ma non avrebbe dovuto avere quello di condizionare un governo e una maggioranza nel senso di buttare come si dice il bambino con l'acqua sporca e quindi spingere a ridurre in maniera generalizzata anche al di là delle esigenze di bilancio che sono sacrosante il sistema degli incentivi e quindi preoccupa in particolare la distinzione fra cosiddette prime case e cosiddette seconde case, io le chiamo così perché bisogna capire esattamente a che cosa ci si riferisca perché fuori dal discorso prime case ci sono case locate, ci sono non case, ci sono locali commerciali, ci sono camannoni, ci sono tanti immobili diversi dalla prima casa, tanti immobili che sono ormai a rischio di vera e propria estinzione e preoccupa anche secondo, almeno a noi preoccupa la forte, ci sono conferme, leggeremo i testi, dicevo spinta sulla distinzione su base reddituale di tutti gli incentivi e anche di quelli relativi alla casa nonostante che nei principi della legge delega approvata un anno fa ci sia scritto che nella rielaborazione delle cosiddette spese fiscali quindi deduzioni e detrazioni si doveva avere particolare cura per la casa sia in locazione che in proprietà peraltro e per altri aspetti invece pare che si siano colpiti persino i mutui, le detrazioni storiche relative alle mutui per l'acquisto della prima casa. Quindi preoccupa tutto questo e speriamo che ci possa essere qualche ripensamento perché l'opera di cura, manutenzione, ristrutturazione dell'immenso patrimonio immobiliare italiano insieme a quella di rigenerazione urbana che sta avendo un rilancio in Parlamento, in Senato in questo momento attraverso l'intervento legislativo della maggioranza con un disegno di legge unificato di rigenerazione urbana che a nostro avviso ha bisogno di correttivi ma che è un'importante iniziativa insomma queste due cose credo siano assolutamente necessarie in Italia anche per la sopravvivenza di molti immobili. Invece l'approccio è diverso. Sono partito dall'intelligenza artificiale, sono arrivato agli incentivi ma non facendo un salto logico perché credo e chiudo davvero che gli incentivi debbano molto riguardare anche per il futuro l'utilizzo di queste tecnologie nuove, ormai non più nuove per quegli obiettivi di cui ho detto che sono privati e pubblici anche. Grazie.